Danneggiamenti di auto in serie subiti da due cani cattinesi nei giorni scorsi, i quali hanno segnalato quanto loro accaduto alla polizia. Sembrano degli atti mirati quelli subiti da una giovane di 33 anni che lavora come impiegata in un call center. La donna ha notato che qualcuno aveva tracciato dei graffi sugli sportelli della sua Fiat 500L a distanza di pochi giorni e nella settimana successiva i vandali si erano accaniti sul resto della vettura, causando altri danni all'intera carrozzeria. Vicenda simile a quella capitata a un quarantenne cani cattinese che si è accorto dei numerosi graffi praticati sulla carrozzeria della sua Hyundai Tucson dopo aver fatto lavare la propria auto. Ed è stato proprio il lavaggista a fare notare i danni al cliente. Anche in questo caso i vandali hanno preso di mira l'intera carrozzeria, tetto, parafanghi, paraurti, portellone, portiere e cofano. L'uomo parcheggia solitamente la sua auto in piazza Macaluso, ma si sposta parecchio per lavoro anche nel resto della provincia grigentina, nel Nisseno e nell'Ennese e quindi c'è da capire se gli episodi siano avvenuti in uno o più luoghi.